Oggi siamo su un nuovo gioco, Headshade, e niente, questo gioco purtroppo è solo in inglese, però mi sembrava molto interessante, quindi ho deciso di portarlo lo stesso. Ma andiamo subito a darci un'occhiata. Eccoci qui, purtroppo sono in inglese, quindi ci accontentiamo così, e siamo appunto questo pittore itinerante, dovremmo girare per quest'isola e scoprire i vari segreti e tutto, e presumo anche dipingere, così siamo un pittore che fa un pittore. Mica collezione Franco Bolli, quindi niente, andiamo, allora, scegliamo com'è il tuo nome, viaggiatore, quale è il tuo nome, vabbè, chiamiamoci Jack, e andiamo. Ok, siamo su una barca, oddio, qua, 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 oddio, la sensibilità, se ne t'affanculo, teragiamo. Ma, ho scoperto il tuo nome, quale è stato ancora? Mi piacerebbe ottenere il mio libro da dormitori? Ci avrebbe spaventato la tripola, è chiamato Great Voyages. il giornale la vecchia donna sta viaggiando con te ti ha chiesto di portare questo quaderno oddio la cosa cosa sei tu dimmi cosa sei un'altra scimmia qua che non dice niente ma è troppo alta la sensibilità minchia bassa un po oh grazie molto meglio beh quindi dobbiamo portare questa qua come esco no da dipingere ok non ho il libro ma da dove cazzo le devo prendere sto libro scusi signora buongiorno ok ecco il suo libro si in pratica dobbiamo aiutare la gente prego cioè potevi alzarti anche tu però comunque sembra che ho trovato qualcosa di nuovo ogni rete sei il tipo di avventura ah ah dopo il mio mio corso ho avuto un'ora di vita credo o non se stai attraversando l'estate potremmo ti raccomando tutto il capitano ilona mi ha detto io mi sarò avuto a l'estate in lindo credo io devo fare cominciare per arrivare ah ok vabbè vabbè ma la cazzo devo fare ah ok salve ma hai visto il shale vabbè ma hai mai visto il shale vabbè ma hai mai visto il shale vabbè ok il dito ovviamente ho avuto quello da parte ho avuto da parte ho avuto il stile è molto strano fattato se chiedi è un peccato che se sono in inglese Cioè capisco ma È un peccato perché Cioè in questo gioco mi sa che sono molto importanti gli audi Sì gli audi Sono molto importanti i dialoghi quindi È un peccato Cosa succede? Non suonava bene Vero? Ma tu lo sei Oddio Con che tranquillità Eh sì Allora io uscirei Si può uscire Allora è che ci moriamo qui Niente Stavano fermi così Allora Vuoi morire Allora 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 prendetemi mamma mi sta dicendo cosa visitare ah l'ultima sedia di mamma felicità beh il nostro viaggiatore scusate che fa la barca quegli altri mongoli tutti fermi no dove sono tutti arrafa questi tu si s'agite ok? hai ricordato cosa succede? mi piacere che la ricerca è inattita, hai spazzato su questa piazza per un po' azzurro non costa un po' azzurro in acqua questo caldo Come ho sentito, sei l'unico passaggio che si trattava durante il rete. L'altro sono sicuro in città. Questo tipo, ovviamente. Non prendo i visitatori, ma in questo caso non riesco a scoprire te per scappare in un'annunità. Solo il tuo risultato. Questo deve essere un grande problema per te. Anche la fredda friggida non potrebbe portarti in città. Siamo andando in città. Alla prossima. Grazie, grazie, grazie. Non c'è niente, è così scuro. C'era di andare in città, per cercare di usare un'attività. Alla prossima. Bene, come si mi abbassa. Beh, andiamo in teoria di qua. Per mandare in città. Se l'ho capito male. Quattro dei suoi posti preferiti. Un labbro gigante. Ah, ok, perfetto. Sì, per la nostra mamma dobbiamo fare questi quattro dipinti, ok. Dai, su, che lina. Non si può correre. Dai, dai, non mi sembra, ma l'unica pecca veramente è la lingua. Perché se ci fosse anche in italiano sarebbe molto più comodo. Oh, vi sto andando a casaccio, quindi... Un ramo. Questo è diventato un survival. Ma ci faccio con un ramo. Lindo. Lindo. Sì. Eh, ma salve. Scusate. Sono sopravvissuto. Sono l'unico stronzo che è andato... Cioè, scusate. Beh, diciamo che mia mamma ama visitare qui. Anche lui è venuto qua per la sua famiglia. Buona parola. L'amore è un po' forte. E' un po' forte. Il capitano è in un stato terribile. Penso che questo è a essere aspettato. Mmm, lei non lo farà mai arrivare a una pagina. Ma mia famiglia èvenuta... Se il capitano è venuto bene. Se trovi che il capitano è venuto, e tu sei da un posto per restare, devi guardare l'Inn. E tu sarai più amicolato. Ma ok... Fattica ci sta offrendo... Ci sta offrendo... Ci sta offrendo... Vabbè, allora... Ok... Basta... No... Ok... Salve... Niente... Ma è piacerebbe Lenny? Grazie! Il mio papà deve fare qualcosa... A presto che metto la mia mente! Ehi, sei un artista? Ehi, hai un pochino! Sei un artista? Ehi, hai un pochino! Sei un artista? E' così! Vuoi vedere cosa ho fatto? Ok... Mmm... Bello! Mmm... Wow! Tu hai lavorato molto difficile... Tutto tutto il giorno... Ma voglio fare la mia prossima... E' ancora meglio! Cosa devo fare? Ehm... Ma non so come fare una canva... Ok! Sei un artista bello! Ehm... Ehm... Ma io come sono? Scusa, sono una scimmia? Cosa sono? Ehm... Ma io come sono? Scusa, sono una scimmia? Cosa sono? Cosa sono? No, aspetta... Mi scusi! No, cosa ho fatto? L'ho droppato! No, cosa ho fatto? No, cosa ho fatto? No, esattamente cosa devo fare? No, cosa ho fatto? Ehm... 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 Sì, ho capito, ho capito, uh, Sanja, che cazzo devo fare? E' un'altra cosa che vuoi fare, bisogna trovare alcuni bordi. Bordi, cosa vuole dire? Che non mi ricordo. Sanja, che cosa vuoi? Il problema appunto di questo gioco, cioè, mi sembra carino, però l'inglese, cioè, o lo sai bene, o ti tarpa un po'... Questo chi è? Salva. Sto bello schiume. Sto bello schiume. Eh, noi tutti abbiamo questi giorni. Oh, no! Quindi, tu, probabilmente, il mio figlio ha una... Ok, quindi... Il mio figlio è sempre sospicioso. Perfetto. Il mio figlio vive in Nava, quindi, ci vedo in alcuni giorni, ok? Ok. Sì, andiamo! Basta, Sanja! Sì, ha certo missione in manetta, ma... Sì, non so cosa devo fare. Faccio fatica. Guarda, c'è la barca, faccio andare altra gente. Vabbè, oh... Io direi che... Possiamo anche finirlo qua al primo episodio, eh. Secondo me. Voi... Ditemi... Cioè, il problema qua, che serve troppo l'italiano. Cos'è che posso fabbricare? Un canvas? Ah, beh, adesso si ha ragione. Io voglio vedere un vero artiste. No, cos'è che vuoi? Cioè, cosa faccio? Cioè, cosa faccio? Ma era di pigiama o... Qua cosa? La blank è di pigiama o... Voglio provare! Posso avere una canvassia? Abbiamo trovato sufficiente cose, certo? Sì! Sto usare questo per... Ehi, Miss Nika piace arte come noi! Sei contenta? Sì, credo che ti piace anche! Sì, davvero piace l'eclipso! No, ho capito che dovessi fare un... ...un coso... Ma tu cosa sei? Sì, c'è un rinforzo che si racconta la pia e questo è quello che fa! Lindau è una buona città! Fabricio! Siamo passati molti di... Dovemmo andare dal capitano? Aiuto! Dovemmo andare dal capitano? No, non è vero! Non dovremmo andare dal capitano perché non c'è la missione! Un po' chassivo! Vediamo! Dovemmo aiutare questo qua? Vabbè! Comunque sì! Cioè, comunque si accettano missioni dai cittadini! Si avvicinano i cittadini, si fanno... Si pittura! È un gioco un po' così! Come idea ci può stare! Adesso magari provo a sentire il sviluppatore, visto che mi hanno inviato il loro gioco! E se magari c'è, faranno in pro futuro la lingua in italiano! Perché è un peccato che questo gioco secondo me merita! Potenzialmente è interessante! Solo che il problema è, essendo solo in inglese, visto che è molto fondato sui dialoghi, E' un peccato che non ci sia in italiano! Perché uno che non sa bene l'inglese... Io... Me la cavicchio ma neanche poi così tanto! Infatti faccio un po' fatica a seguire tutto quello che dicono! E... Quindi non so! Adesso provo a sentire e vi dirò magari in un... Se volete... Ah! Se volete vedere un altro video su questo gioco! Non esitate a dirlo qui sotto nei commenti! E farlo sapere con un mi piace se no! E condividendo con i vostri amici! Per farlo vedere un po' di più questo gioco! Perché in Italia mi sa che ne l'ha parlato proprio nessuno! E quindi secondo me è un peccato che nessuno conosca questo gioco! Perché... Cioè non sto dicendo perché me l'ha mandato! Veramente è... Insomma è merita! E' bello! Solo che... Visto che non c'è l'italiano... E' sconosciuto praticamente! Voi fatemi sapere se volete vedere altri episodi di questo gioco! Qui sotto nei commenti! O con un mi piace! Mi raccomando condividete il video! E... Niente appunto! Per questo video è tutto! E noi ci vediamo con un prossimo episodio! Ciao! Ciao! Go